Buongiorno, ben ritrovati per questa edizione del TgGiorno di venerdì 10 febbraio 2023. Apriamo dunque, come dicevamo, in sede di presentazione del telegiornale con la cronaca e andiamo subito nella Valle del Serchio, sulla Fondovalle, per vedere quanto è successo questa mattina. Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, sulla strada di Fondovalle Lodovica all'altezza del Bivio per Cardoso e Colle Aginaia, nel comune di Gallicano. Un'auto con a bordo due persone, il cui conducente non si era evidentemente reso conto della deviazione di carreggiata disposta in questi giorni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia che attraversa la strada, ha perso il controllo e si è ribaltata proprio al di sotto dello stesso cavalcavia. Per quanto riguarda gli occupanti, il conducente, un uomo di 83 anni, residente nel comune di Gallicano, è stato trasportato in codice verde presso il pronto soccorso di Castelnuovo Garfagnana. L'altro occupante, anche lui è un uomo di 80 anni, non ha riportato ferite. Sul posto per i soccorsi, due ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure del caso all'uomo rimasto ferito, ma anche i vigili del fuoco. L'incidente, come detto, non ha avuto gravi conseguenze né per coloro che occupavano l'auto né per gli operai del cantiere, presente da qualche giorno sulla Fondovalle, e peraltro adeguatamente segnalato. Come vediamo da queste immagini, la viabilità, nonostante l'auto bloccasse la strada, non è rimasta interrotta grazie proprio al fatto che il tutto si è verificato nei pressi del bivio presente nei due sensi di maccia e che utilizza il cavalcavia per raggiungere Colle Aginaio e Cardoso, che ha permesso alle auto di avere un adeguato bypass alla strada bloccata. Sul posto per i rilievi, anche i carabinieri della stazione di Gallicano. Ancora la cronaca, un bimbo di 18 mesi che è stato morso da un cane. Tutti i particolari nel servizio. Un bambino di 18 mesi è stato morso al volto da un cane di prima mattina ad Antraccoli, nel comune di Lucca. Al piccolo, trasferito al pediatrico Meyer di Firenze, sono stati applicati dei punti di suturo al volto, perché fortunatamente la ferita sarebbe risultata non grave. L'episodio è avvenuto mentre il bambino stava giocando, come solito fare, di fronte al cane, un terranova di 10 anni che non aveva mai dato problemi alle persone. Con lui presente anche il nonno, che ha subito allontanato l'animale ed ha avvisato i soccorsi. Sul posto è prontamente arrivata un'automedica, ma medico e infermiere, per accelerare i tempi, hanno portato il bambino al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca. Qui è stato stabilizzato e accompagnato in ambulanza, con anestesista e rianimatore a bordo, direttamente all'ospedale pediatrico di Firenze. Adesso ci spostiamo nella provincia di Massa Carrara per parlare di una consulente finanziaria risultata poi abusiva in base alle indagini della Guardia di Finanza. I finanziari del gruppo della Guardia di Finanza di Massa Carrara hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una consulente finanziaria abusiva. L'indagine è nata in seguito alla denuncia presentata da un investitore che aveva perso tutto il denaro che aveva consegnato alla donna, la quale, tramite due uffici in lunigiana, raccoglieva fondi per un'impresa estera di gestione di investimenti. Un'attività di consulente finanziario che esercitava promuovendo e collocando servizi di investimento ad alto rischio, in special modo criptovalute, promettendo rendimenti elevati sottoposti a tassazione vantaggiosa. Il collocamento degli investimenti proposti ai vari clienti avveniva attraverso il sito internet di una società di gestione del risparmio localizzata nelle isole Marshall, che, dagli accertamenti svolti, non era autorizzata dalla Consob alla raccolta di fondi in Italia. La donna, a fronte di una provvigione, svolgeva la funzione di raccordo tra gli investitori e i consulenti esteri. La promotrice, al fine di percepire la propria commissione, calcolata in 19.000 euro, ha fatto firmare agli ignari investitori deleghe a operare sui conti di trending online, consegnando i loro risparmi nelle mani di personaggi spregiudicati, che hanno causato loro un rilevante danno economico, con la perdita di capitale per circa 300.000 euro. Al termine delle indagini, la consulente è stata denunciata per attività finanziaria abusiva, e le sono stati sequestrati i 19.000 euro, frutto dell'attività illecita. La macelleria islamica di Alto Pascio, presa di mira dai ladri ancora una volta. Due furti nel giro di 20 giorni. Non c'è pace per la macelleria islamica di Piazza del Porto, ad Alto Pascio. I ladri, nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno spaccato la porta a vetri dell'ingresso e una volta dentro hanno spostato la telecamera interna di sicurezza per non essere ripresi. Poi hanno forzato una porta interna e quella della cella frigorifera, rubando sia il fondo cassa che un notevole quantitativo di carne. Un furto simile, come detto, era stato messo a segno solo pochi giorni fa. Sono venuti due volte. La prima, al 20 gennaio, ho fatto la denuncia al Carabinieri, e poi la seconda è questa che voi venite ora, guardate cosa ho fatto di danni. Il bottino complessivamente ammonta 3.500 euro. Hanno portato i valori di soldi 2.800 euro e i valori di roba di alimentari 700 euro. Il totale 3.500 euro. E' fatto il danno alla porta, hanno spaccato anche il vetro, il danno anche alla porta e anche i danni morali. Quando fanno due volte, si dice una volta va bene, è andata, però due volte... Sul furto stanno indagando i Carabinieri. C'è una mini proroga per le concessioni balneari che è slitta al 31 dicembre 2024, ma in realtà tutto questo viene considerato una sorta di lenta agonia. Via libera delle commissioni bilancio e affari costituzionali al Senato ha tre emendamenti sul dossier balneari. Il pacchetto prevede la proroga di un anno delle attuali concessioni, fino al 31 dicembre 2024, la proroga di cinque mesi dei tempi per la mappatura delle spiagge e infine l'istituzione di un tavolo tecnico permanente per stabilire i criteri per determinare la scarsità o meno dei ritorali da dare in concessione in Italia. Su questi tre punti, inseriti nel decreto mille proroghe, al voto la prossima settimana, è stata trovata l'intesa fra i tre partiti di centro-destra. Il governo di fatto prende tempo per definire i decreti attuativi al DDL Concorrenza, ereditati dall'esecutivo Draghi, che scadrebbero a fine febbraio. In sostanza, di qui a luglio si dovranno stabilire quante spiagge oggi libere possono andare o meno in concessione, e soprattutto con quali regole avviare le aste degli stabilimenti attuali, aste che nel frattempo i comuni non potranno in alcun modo avviare. Uno scenario che sembra andare in direzione delle evidenze pubbliche, lontano quindi dalle promesse di negoziati con l'Europa per disapplicare la Bolkestein, e anche per questo è stato accolto con molta diffidenza dai balneari della Versilia. Diciamo che può essere una soluzione positiva se questo tempo viene impiegato per trovare una soluzione definitiva. se è soltanto uno spostamento di data sarebbe l'ennesima proroga che non porta a niente. Il governo Meloni aveva detto che avrebbe trovato la soluzione e noi è quella che aspettiamo. Ma sta alla politica trovare una soluzione che garantisca la continuità a soltanto in Toscana 900 famiglie che lavorano direttamente nel settore balneare. È un'agonia ancora continua, quindi nutriamo parecchie perplessità su questa vicenda, che è un ulteriore aggravamento di una situazione che ci mette anche in difficoltà sul fronte degli investimenti. Diciamo che dal governo Meloni ci aspettiamo delle prese di posizione più forti e le prese di posizione sono anche quelle che ha promesso lei in campagna elettorale e anche nel posto, cioè quelle di salvaguardare le aziende balneari esistenti e cercare di dare una nuova linfa al settore balneare italiano. L'Unione Comune della Media Valle che mette in vendita un immobile e vediamo quello che può succedere. Rimangono senza una sede il CAI, il Club Alpini di Lucca e i Fratres di Lucca e Piana. L'Unione dei Comuni della Media Valle, proprietaria dello stabile che li ospitava gratuitamente in via dei Bichi, ha messo in vendita l'edificio per ripianare un disavanzo in bilancio di 740 mila euro e così le due associazioni tra qualche giorno rimarranno ufficialmente senza casa. Abbiamo ricevuto una lettera con cui l'Unione dei Comuni ci invita a lasciare i locali che abbiamo in uso da più di cinque anni e che in questo momento ci sorprende, ci sorprende e ci rammarica perché l'attività che svolgiamo a favore del territorio, in particolare dei territori montani, è un'attività importantissima che va dalla manutenzione dei sentieri alla promozione dell'ambiente montano, alla promozione del turismo lento e sostenibile e a tutti i corsi di escursionismo che implementiamo all'interno della nostra sede. Quindi i locali operativi per noi sono indispensabili. Stesso problema per i Fratres. Noi condividiamo lo stesso problema che hanno il CAE, gli Alpiri, i maestri del lavoro e ci siamo trovati in questa situazione e non sappiamo cosa fare. Fra l'altro noi, come associazione, coordiniamo tutti i gruppi della Lucchesia e cerchiamo di far qualcosa per indurre i giovani alla donazione del sangue. Perché se si pensa che una donazione di sangue salva due vite, ecco. In un comunicato l'Unione Comuni Mediavalle parla di decisione obbligata e sottolinea come d'altra parte la convenzione con le due associazioni fosse già scaduta. Alpini e Fratres però dicono di aver ricevuto un preavviso di soli 15 giorni. Si aspettavano un altro trattamento dall'Unione Comuni e adesso chiedono aiuto per trovare subito una nuova base. Bene, con questo servizio si chiude la prima parte del TgGiorno. Rimanete con noi però perché tra poco ci sono le notizie sportive. In primo piano l'ingresso come socio di maggioranza nella Lucchese dell'imprenditore Andrea Bulgarella. Vedremo anche un'intervista che ieri sera abbiamo realizzato proprio con il dottor Bulgarella. A tra poco.